Presentata la terza edizione della Sagra del Cinema, l'iniziativa sostenuta dal Comune di Castiglion Fiorentino e dal Proloco, vede contributi importanti, sono molti gli attori di spessore che saranno presenti. È un'iniziativa che unisce l'aspetto ludico, quindi il divertimento del vedere un film, di stare una sera all'aperto con dei contenuti, perché ci sarà l'incontro con gli autori, con gli artisti che ci faranno visita, Montanari, Cerlino, Scarpa e Guanciale, poi delle serate che vedranno invece degli impegni sociali come per esempio la serata dedicata al gemellaggio che è stato fatto alla nostra Proloco con la Proloco di Norcia e la visione del film Brancarino e le Crociate che è un cult che appunto è stato girato proprio nell'alto piano di Norcia. Abbiamo sentito i nomi degli attori, ci sono dei film bellissimi, Falchi, Abemus Papam, I peggiori, Sole e Cuore e Amore, dunque anche un'occasione per vedere se sono sfuggiti film di grande rilievo. Sì, quest'anno abbiamo voluto concentrarci più sulla contemporaneità, anche nell'elaborazione del programma, quindi avremo film contemporanei usciti quest'anno accanto a classici recenti come Abemus Papam di Nanni Moretti oppure a grandi classici come l'Armata Brancaleone ad agosto. La prima parte è una parte un po' più tematica, quella di luglio, quindi sono film anche collegati in un certo senso che hanno un filo conduttore che abbiamo individuato molto e a grandi linee nel lavoro. Ad agosto invece dal 18 al 20 agosto è un po' più tema libero e quindi questo ci permette di poter dedicare una serata a Norcia e al terremoto, una serata alla musica alla danza e una serata alla musica legata al cinema muto. Tra l'altro da segnalare anche perché è sagra, perché ci sono Celleno Gastronomia, Napoli, Milano, Roma, Abruzzo, oltre quella classica però Toscana dedicata agli attori o ai film che saranno proiettati? Ovviamente il menù toscano non può mancare perché siamo in Toscana, ma a seconda dell'ospite che abbiamo abbiamo deciso di dedicargli un piatto.